Il piano d'emergenza è scattato, sono stati momenti di paura per i passeggeri e per il Belgio, ma il doppio allarme bomba dichiarato su due voli in arrivo a Zaventem, l'aeroporto internazionale di Bruxelles, è rientrato. I due veliboli sono regolarmente atterrati e non c'è stata alcuna conseguenza per i passeggeri. I due aerei erano in provenienza rispettivamente da Oslo e da Stoccolma. L'allerta per una minaccia non meglio precisata ha obbligato un terzo volo atteso a Bruxelles a deviare su Tolosa. Una serie di misure di sicurezza sono scattate dopo l'allarme lanciato dai piloti una ventina di minuti prima dell'atterraggio, misure che sono state poi sospese attorno alle 8 di sera. L'episodio, privo di conseguenze materiali, contribuisce tuttavia ad esasperare l'atmosfera di tensione legata alla minaccia e al terrorismo, particolarmente sentita in Belgio. Il paese è in stato d'allerta dal 22 marzo scorso, quando un doppio attentato rivendicato dall'ISIS ha fatto 32 morti all'aeroporto di Zaventem e alla stazione della metro di Malbec. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.